Salve a tutti gente, sono il caso 90, benvenuti qua sull'arena Swagni Swagni, che cacchio hanno da festeggiare? Sì, Beetle, abbiamo già tutto Siamo qua, si comincia da subito Facendo sto cacchio di sì, questi stanno già cominciando male Comunque, vediamo un po' Penso lascerò il blu a Chunga, visto che le serve di più Io non lo prendo, va a fare un cucu Sì, però difendi, tizio Bravo Gozi Ok, vediamo un po' di mettere in pratica quello che abbiamo in bara Non lo vuole nessuno questo? No, ok Eh, questo non si fa Ok, questi sono strani, solitamente si dovrebbero fare tutti i buff Invece niente, il che è strano Comunque, vediamo un po' Dai, bloccalo uno Tiè Eh, non me la volevo rischiare Non me la volevo rischiare Ok, first blood per noi, buono così Eh, qui c'è qualcun altro che ne vuole No Ok Bene, abbiamo la nostra ultimate Vediamo un po', ora possiamo finalmente ingaggiare Con Agni Vediamo un po' Il fatto è che vorrei che lo facesse Cabrakan Visto che è il nostro tank al momento Quindi Non volevo rispracare abilità al momento Datemi un attimo Ora Che minion pieni è molto meglio Ovviamente Se non serve a niente in più Non è mentre che Che minion bruciano Noi ci rifacciamo la passiva Allora Ora vediamo un po' di aspettare Perché noi possiamo fare niente Niente di particolare almeno al momento Dai, su Attacca Ok Ho attaccato prima loro Nope Ho colpito qualcuno Sì, sì Sì Oddio Non va bene Non va bene Ah, l'ho ammazzato qualcuno? Con cosa? Eh, scusa tizio Non ho più niente Ti posso salvare Ho ammazzato qualcuno? Come? Non l'ho visto E guardate quanta vita gli è rimasta Vabbè Ok, perfetto Abbiamo ammazzato gente Allure Vediamo un po' di buildare La nostra bella, bella Bella Build Ovviamente Non è che Allora Direi che porto al massimo Greater Purification Non sto mettendo stativa Perché questa permette Di prevenire Un crowd control E rimanerne immuni Per tot secondi Mi pare Tre Sì Ok E ci serve per la final di Merda ormai Ci serve per la final di Ares Che ti prende Ti porta verso di lui Quello è un CC Quindi cerchiamo di non farci uccidere Da loro Allure Pulisco la lane Che forse è meglio L'importante è sempre pulire la lane In arena Perché Se entra i minion Come sapete Se avete visto il primo video Introduzione a smite È male Sono punti che se ne vanno Tanti punti che se ne vanno Allora Al momento stiamo vincendo Di poco Ma stiamo vincendo Questo Mi sta bene E cos'altro Cos'altro c'è da dire Sì Sulle build Giusto che L'ho detto in video Ecco di nuovo Cacchio Scappa No No Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ero pronto a fuggire Peccato 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 Comunque Per quanto riguarda Il discorso delle build Soprattutto per la build di acne Sì Io ho dato una build base È vero No Ok Volevo proteggerlo Ma se lo fermi Grande Merda Riuscite a scappare Bastard Nope Per quanto riguarda La build di acne Stavo dicendo Ogni volta Mi distraggono La build di acne Dicevo che Io ne ho dato Una base Sul Sul video Sul video di presentazione Del dio Però Ovviamente Le build Possono cambiare A seconda Del Del team Che avete contro Per esempio Per esempio Mi si stava bloccando tutto Per esempio Se avete un team Full Full attacco fisico Ora Non full Sì Full Dei full fisici Ecco Aspettavi un attimo Continuo fra un attimo Muori Ok Se avete per esempio Un team full attacco fisico Invece che buildare Per il cooldown reduction Per esempio Il chronos pendant Andrete sui defensive items E prenderete la breastplate Of valor Che vi da physical protection E cooldown reduction Non vi da il magical power Che c'è qua Però vi da mana E via Vi protegge un pochino Se c'è un team Totalmente Basato sull'attacco fisico Ovviamente Reggerete molto di più Rispetto al normale Tu stai fermo Qui L'ho mancato Grande però Me l'ha bloccato Per una delle final Comunque Piano piano Stiamo buildando Stiamo buildando Il nostro attacco Ovviamente Non si può fare Tutto subito Cabra Cancela A fermarne uno No Io sto aspettando Che lui riesca A fermarne uno Giusto per E comunque Come avete visto prima Non avendo I purification pronto Purtroppo E' successo Che Ares mi ha preso E mi hanno tutti Storpiato male Questo è quello che succede Se non siano le bads pronte E bom Bom Peccato Sei sicuro No Non è più sicuro Ok Stai andato via Prima attacco Poi è scappato E va bene Comunque Altra ultimate pronta Questa è da difendere Questa è da difendere Gico Bravo così Oh No Troppo tardi Non mi è partita Non mi è partita Alla uno Purtroppo E niente Non ce l'abbiamo fatta difendere Ma niente E ora le bads C'è gli opero Caro Anzi non le bads Il purification Le bads Sono un'altra cosa E ne vado indietro E ne vado indietro Sto qua dietro Sto facendo un pochettino Il passivo Perché ancora la build Non è Non è al suo livello massimo E vorrei un qualcosa Di più completo Prima di andare avanti Anche perché non faccio Il danno che dovrei fare Quindi al momento Preferisco starmene Un pochino indietro Farmi poco poco I minion Quando vedo E via E ce li facciamo con questo Va Sprechiamo una Una meteora Vai così Uh buono lì Però non devi fermare il tank Tizio Dovresti fermare gli altri Che sono un po' più deboli Dietro No Ok Pensavo arrivasse Muori L'ho mancato L'ho mancato Perché non c'è arrivata la final Non per altri Ok Io penso Me ne tornerò indietro Sì E questo Che fa Sì ovviamente ne scappa Però io sto Guardando un attimo Alloro Lui scappare Scappa Ma alloro No Ok Ho protetto Ho protetto Ho protetto Tizio Cupido mi pare Mi pare di aver protetto Cupido Non me lo ricordo Già più E andiamo di Surriver il prima possibile In realtà Voglio Voglio far danno Voglio far danno Da subito E questo è uno dei modi Migliori Ovviamente Anche la mia Sono tutti Se sei sempre ready La mia Praticamente Non è che ci sia Da aspettare tantissimo Però Cabra Khan Guarda dove sono gli altri Prima Se no non va bene Uh attenzione lì Bravo così Cupido Non possono uscirne Vai Oh ricacchio Vai Gli attacchi base Ci ha preso Dove vanno Dove vanno Preso Ma me l'ha rubato prima Che palle Era mio quello Ho più Ho quasi più Più assist del No Ho più assist del tank Non va bene mica Non va bene mica Che figure ci faccio poi Vabbè C'è da dire Non sono ancora build completa Attenzione eh Sì potrei rubarne qualcuna Di kill Ma Non sono sempre il tipo Solo a volte No Dovevo buildare la ultimate Ok fatto Non la ultimate La passivo C'è un personaggio Che builda la sua ultimate Però poi Vedremo molto più avanti Perché è l'ultimo Dei personaggi Che dovrò far Far vedere Probabilmente Se non esce Un altro dio Con la zetta È l'ultimo Dei personaggi Che vedremo Ok Penso A 1350 Ok Qui ci sono vicino Anche la mia Cabrekin Ares è pronto Eh Lo sapevo Era pronto Ad attaccare Stai fermo là Cacchio No 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 Molto forte Molto forte Lui Vediamo un po' Se mi vuole inseguire Un po' Io avrei la ultimate No è sparito Cacchio Peccato Lui è veramente Troppo forte Per Per me Quindi Come dio Intendo Come Come persona Visto che poteva Distruggermi Malamente Invece non l'ha fatto Ho qua anche Uno dei Degli assassini Magici Più forti Al momento Quindi Assieme a Freya Ne sono anche Gli unici due Per dire Però Nel mentre È uno dei Dei forti Dei forti Al momento No Sono sempre pronto Quella ultimate Per proteggere gli altri Però non mi sto Prendendo kill Non va mica bene Me li faccio io E mi si è bloccato Tutto il gioco Ogni tanto Il Il VGS Mi pare Si chiama Il Il sistema Di comunicazione Con i voice pack Mi Mi fa lagare il gioco Non so perché Bravo così cupido Preso Ti ho aiutato io Era mia Anche quella Vero Che cavolo Bravo così Cabra Tiè Non ho più Ultimate Attenzione 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 Scende 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 Ora Eh dai Un'altra Me ne ha tolto Mia Questa è mia Vaffanculo Loki Che cazzo Tutto tu vuoi Tiè Olle Guarda si è incazzato male Perché gli ho preso la kill Cosa vuoi Cosa vuoi Sei a sette Io sarò a due Non rompere L'ho protetto Cupido Era mia Ok Torniamo la spiglia Va Questo ha Adasciato Sul Sul muro In che partita Sono capitato Perché non è possibile Mio Che palle Vero Cupido E su E dammi Era mia Quella Il brutto Dell'essere Agni Te le rubano Le kill Quando possono Però anche tu Le rubi Agli altri Questo è anche Il bello Ok Vediamo un po' Di pulirci Sto campo Olè Eeeh Cianca No Lo prendo io allora Non mi serve In realtà Però prendo Lo stesso Mi faccio perdonare Ti Aiuto qua Ok L'hai visto E' contento Ha detto Va grazie Mi hai aiutato Cacchio 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 Sta fermo Grazie Mi hai aiutato tantissimo Buono così Ok Cosa abbiamo Spirit of the Magus E mi manca ancora Un bel po' di roba In realtà Però vabbè Sto utilizzando Più o meno La build Che ho messo Non più o meno Sto utilizzando La build che ho messo Nel video Però Ovviamente Non penso di completarla Di sto passo Siamo 25 a 7 Quindi Penso non riuscirò A completarla Però non fa niente Almeno state vedendo Un pochino Come utilizzare Agni Non al meglio Perché comunque Si ha un match arena Nel match arena Non vedi mai davvero Come si utilizza un dio Però Sono quelli che durano meno Alla fine Cioè Una conquest Durerebbe anche Sui 50 60 minuti E Non ho lo spazio Per fare una roba del genere Sul mio pc Mi piacerebbe Però Qualcuna Qualcuna probabilmente La farò anche Ma Non al momento State fermi Freya ci è rimasto Un po' male Mi sa Ammazza Glielo lascio Beh certo Non si fa mica Ok Stanno facendo Ok Abbiamo fatto Un decide Abbiamo fatto Un decide in arena È molto buono Attenzione Non so quanto ti convenga Bloccalo Bloccalo Non l'ha bloccato Rain final Quando hanno un rain final Non è possibile Bloccarlo O meglio Immune E i cc Quindi Non ho potuto Stannarlo Per quello Attenzione Attenzione Bravo così Bravo cupid Bravo cupid Bravo cupid No No Era una kill quella gente Era una kill Questo ha mancato male Tutti Mancato chiunque Adesso ne sta Pagando le conseguenze Anche io Ora Però No Non ce l'ho fatta Però no Mi ha preso in pieno Tizio Ares Stavo di Bancroft Ma non ha più Molto senso In realtà Perché Purtroppo Non ha più Molto senso Stiamo Stiamo Stravincendo Quindi Però vabbè Io ovviamente Cerco di andare avanti Così Tranquilli Non so se si è notato Ma non sono un pro Agni In realtà Sono Si So come utilizzarlo Però Ho altre priorità Io In fatto di Di Dei Poi Si vedrà più avanti Il risultato Spero Ok Penso Penso Si ha vinto A meno che La mia squadra Non sia un team No E decida Di Surrendare Per divertimento Così Per perderla E via Ma No Non sembra così Non è colpito Uno lì in mezzo Allure Vediamo un po' Ho paura che mi vogliano attaccare Vabbò Non ci hanno attaccato Ecco Cupido si però È andato dritto Dritto lì Attenzione Ho Quang Preso E basta Però Sai che cacchio Dai Hai rotto anche un po' Le Bulls Le Bulls Le hai rotte un sacco Datemi un attimo Pulisco qua Ok Ci abbiamo fatta Peccato che La 3 di Agni Non lo rende muo Neanche i CC Solo i knockback Per esempio Uno dei knockback Può essere La seconda abilità Di Jeb Che poi vi farò vedere Anzi di Gab Che poi vi farò vedere Ehm Cosa altro Ce sono un paio Cioè non un paio Ce sono più di un paio Però Ehm Al momento Mi viene in mente Solo quella di Gab Che è proprio Un knockback Knockback Quindi Beh Anche la mia Si attacca Si attacca L'ultimo ingaggio Capra Khan L'ultimo ingaggio È pronto Guardalo È pronto Io vado su di Su di te però No Mia Me la voleva rubare Che cacchio vuoi Loki Era mia Che cacchio Stupido Me lo sono fatto da solo Cosa Cosa vuoi Cosa pretendi L'ultima No Non ho potuto Vabbè Comunque Questo era uno sguardo Ad Agni Bella Bella per tutti Bella grazie a noi Che abbiamo vinto Grazie soprattutto Al mio intervento Che è stato fondamentale Questa partita Vabbè Non ho giocato Malissimo Dai Sono stato troppo Sulla difensiva Forse A volte È giusto Andare In attacco Però È stato un pochino Difensivo Peccato Comunque Questa era la partita In arena Gente Spero che vi sia piaciuta Ci vediamo ovviamente Nella prossima partita In arena Che riguarderà Molto probabilmente Amusankab Sta uscendo Un nuovo dio In questo momento Uscirà Il 28 Di aprile Che sarà Apuch Quindi Penso Amusankab Apuch Apuch Dovrebbe essere dopo Amusankab Proprio giusto dopo E probabilmente Lo prenderò quasi subito Con i favor E niente Lo vedremo assieme Alla fine Così si fa anche prima Nuovo dio Arena Col nuovo dio Appena uscito Sarebbe una cosa figa Vedremo Vedremo gente Comunque Alla prossima Con Con Smite Alla prossima